Quella dei Cinque Stelle, i quali dicono invece di parlare Renzi dovrebbe restituire un miliardo di rimborsi elettorali. Ida Peritore. La replica dei Cinque Stelle alla stile del segretario del PD non si fa attendere. Renzi dimostra che è capace di fare quello che dice, si legge in una nota il suo partito, insistono gli uomini di Grillo, vuole solo una finta abolizione delle province e fa marchette come quella sulle slot machine. Bene la nuova legge elettorale.